Simona, le cangure, qualche anno fa. È bionda come una zucca, si fa il colore da sola, penso. Ha un grembiule troppo stretto, le gambe pesanti, che intuisco dietro il banco della macelleria. Mi dice, mentre affetta la carne, li amo così tanto i figli miei, che se potessi me li rinfilerei nella pancia. Si gira verso destra, gli occhi le si allargano come se vedessi i suoi ragazzi, due amoni ormai grandi e grossi di più di vent'anni. Ma siamo sole nel negozio. Sono ancora qui i miei ragazzi, dice, battendosi la mano sulla pancia. Per quello alle donne rimane sempre sto gonfiore. Mi fa, consolandosi, mentre mi dà il pacchetto. I nostri amori fatali, i nostri amori fetali, che abbiano sei mesi o quarant'anni, che siano belli o brutti, buoni o cattivi sono sempre con noi. Ce li portiamo dietro, come rampicanti profumati, amati e desiderati, non desiderati e amati, voluti o capitati. Donne canguro, per definizione, con questa grande sacca sempre da riempire. Rulotte container di amori terremotati, come quelle donne ucraine o siriane che siano, che scappano dalla guerra con valigie piene di figli. Il cuore svuotato, le lacrime per lavarli, la speranza per nutrirli. Ma io ne ho avuto uno solo di figlio, penso. Solo Francesco è mio figlio. Quel bambino che ora è un uomo con gli occhi tartare, la faccia da guerriero e il cuore morbido come un peluche. Quell'uomo che adesso porta cavalcioni e una figlia uguale a lui, che gli abbraccia la testa tali da sembrare una persona sola, con una faccia sola. No, c'è anche Cristina, la mamma di mia, l'ultima nipotina adesso, nel mio vecchio marsupio. È mio padre che non c'è più, il mio ex marito quando è triste, mio marito quando non sorride, mia madre quando le sale la pressione, le mie sorelle quando partoriscono, una mia amica quando ha il cancro. Non sono in qualche modo tutte figlie mie, le persone che amo o che ho amato, sempre con me, mentre maledico il traffico, discuto con un produttore, cerco la luce giusta con un direttore della fotografia o la frutta al mercato. Stipati nel marsupio, insieme alle sceneggiature, un libro che sto scrivendo e non finirò mai, una commedia che chissà se metterò in scena, un dialoghetto che non so dove piazzare, tutti mischiati come il cibo nello stomaco, incastonati nella mia vita come il fegato nel corpo. È questo che ci distingue dagli uomini, che loro sanno circoscrivere, dividere, separarsi, almeno logisticamente e temporaneamente, dalle persone che amano, lasciare i figli a scuola e non rimpiangere di non potersi infilare nel banco con loro per metter loro la mano davanti alla bocca quando stanno tirando o scartare la merendina, quando suonerà la campana della ricreazione. Ma io, nonostante abbia fatto di tutto, nonostante li abbia tanto amati, non sono riuscita a diventare un maschio e non posso dire come concilio il lavoro con i figli, perché sono un tutt'uno. Io, vittima e felice depositaria di quell'impulso di autoaffermazione che mi ha permesso e costretto a diventare una che può raccontare le sue storie, girare i suoi film e scrivere i suoi pensieri. Me li sono sempre portati dentro, i miei figli, perché sono la mia schiavitù e la mia libertà, il mio delirio. È la nina nanna, il canto libero e quello di protesta. Io, più giovane che recito e penso a mio figlio, che faccio i compiti con lui e clandestinamente elaboro il pezzo da scrivere. Che dormo è lo sogno, gli do da mangiare e contemporaneamente lo bacio per non perdere tempo, come gli uccelli che imboccano i propri piccoli. Gli faccio il bagno in quella vasca amniotica che è il mio amore per lui. Ricordo una volta un suo pianto lungo come un discorso. Ero stata via un mese in America con suo padre. All'aeroporto mi ha accolto così il mio bambino, artigliato alle braccia di sua nonna. Mi rimproverava per averlo lasciato, spingeva il viso contro il golf di mia madre, unico porto sicuro. Sono una barca a vela, amore mio. Quando tiro un certo vento, devo partire. Come potevo spiegargli che ero andata a esplorare il mondo, a portare le mie piccole idee al di là dell'oceano, ma che adesso, piena di quelle cose viste e pensate, gliele avrei potute infilare nel cuore, perché potesse goderne anche lui, che ero, insomma, o credevo di essere una donna migliore, una madre migliore per lui? Per lui ero una madre imperfetta, che lo aveva abbandonato, da sgridare, a cui negare il sorriso per due giorni, che lo aveva deofradato di un tempo che non sarebbe tornato più. Ma non si può essere tutto, amore mio. Ricordati che lo facevo anche per custodire tuo padre, che invece è scivolato via dal mio cuore, o meglio, cacciato dal mio cuore, perché indegno come marito. Mi sembra rivederlo ancora, mio figlio, che a nove anni viene sul set di Parole e Baci, il mio primo film, e si mette a parlare con gli elettricisti, con gli attrezzisti, con quelli che il film lo fanno davvero, e poi lo vede al cinema e mi dice sottovoce, l'ho fatto pure io. L'hai fatto solo tu, penso, sei tu la mia ispirazione, il mio blocco e il mio avviamento. Madre e figlio, uniti per sempre in un destino biologico, la sua integrità fisica e il suo respiro. Quando era piccolo e dormiva nella culla, non riuscivo a staccarmi da quel soffio con il quale cercavo di accordarmi, come fosse un diapason, il là della mia vita. Noi simbiotici comunicanti, lui unico uomo, da cui non avrei mai più, non avrei più preciso. Gli ho insegnato a vivere? Non credo. Non lo so fare io. Come avrei potuto? Ancora oggi mi sorprende la sua capacità ad amare, di essere un padre o un marito. Da chi l'avrai appresa? Da mia madre, dalle sue zie e da suo padre? O forse l'avrai assorbita come una pianta assorbe l'acqua quando ti ricordi di daiela o quando grazie a Dio piove. Certo, il privilegio di un mestiere ludico che ti fa flertare ossessivamente con le passioni e sentimenti, che ti permette di coltivare anche in vecchiaia il tuo giardino di infanzia, mi ha permesso di portarmi in giro tutti i miei amori e mio figlio. Ma penso a donne che svolgono attività più concrete, alla mia macellaia, alla mia avvocata che discute i miei contratti e invalida la mia firma. Ma chi se ne frega con una lacrima che le scende dal viso, sulla carta bollata, mentre mi racconta della sua nipotina con la sindrome di Down, che ha un sorriso straordinario. A mia sorella che tra un atto e l'altro di un'opera lirica allatta la figlia senza smettere di gorgheggiare. A mia madre che per seguire mio padre e non abbandonare noi ci infilava dentro al suo cappotto. Alla donna che mi aiuta a casa, la vera liberazione di una donna e a noi un'altra donna, che racconta le favole al telefono al suo bambino che è rimasto in Perù mentre cucina per me. Alla mia ginecologa che mi dà la pillola e dice ti rendi conto, la do anche a mia figlia insieme alla fetta biscottata e il miele, ormai a 18 anni. Alla mia commercialista che cerca di farmi risparmiare sulle tasse e interrompe quell'arrida attività per risolvere il problema di matematica al telefono con il figlio. Amore, sei sicuro che il risultato sia 89.892345? A me viene 89.2354. Penso che queste signore che danno il mondo al mondo per quanto facciano si liberano, si emancipano, lavorano, producano, non vogliano, non possano e non debbano separarsi dai loro frutti. Anche quando sono maturi come il mio, alto un metro e ottanta con le gambe forti come colonne di un tempio. E si staccano dai rami che li hanno generati e rotolano via. A deliziare qualcun altro con quella dolce polpa costruiti insieme. In quel momento anche se quegli alberi che siamo noi, madri querce o salici piangenti, a seconda del carattere, sembrano restare infilati nella terra. Si sradicano, si animano, inseguono quei frutti, continuando a ripetersi e a insegnarli che per crescere devono staccarsi da loro, sperando che non li ascoltino mai. Sperando di poterseli tenere attorcigliati tutta la vita, quel cordone ombelicale che nessun bisturi, per quanto affilato, potrà mai tagliare, nessun uomo, per quanto amato, potrà mai separare, nessuna soddisfazione professionale, sociale o economica potrà mai sfilacciare. E il filo di Arianna, il filo dell'amore, e il labirinto materno da cui nessun figlio potrà mai scappare. Ma questo vale anche per quelle donne che non sono riuscite o non hanno potuto o voluto avere un figlio, perché puoi essere madre di un uomo che ami, di tua madre, di tuo padre, di un amico che non vuole più vivere. È un sentimento, quello materno, che include tutte le donne, perché è il loro unico criterio affettivo. In L'amore delle donne ho scritto che le donne non finiranno mai di stupirmi, e le amo perché sono materne anche a 5 anni, sensuali anche a 3, mature anche a 20, infantili anche a 30, erotiche anche a 70, civette anche ad 80, e fighe anche a 90. E la loro attività preferita, siano segretari o ingegneri, casalinghe o impiegate, la vera grande attività che svolgono, perfino quando dormono, è amare.